Salve, sono Federica, faccio parte del comitato Mettiamo in Motto la Zucca. È un gruppo di cittadini che ormai da quattro anni lavora per migliorare le condizioni di questo parco. Migliorare le condizioni significa aver chiesto e poi anche ottenuto tanti nuovi arredi, da nuovi giochi per i bambini a una rastelliera, una bacheca, un tavolo da ping pong, un tavolo di legno, ma chiediamo e otteniamo e organizziamo anche tanti momenti di aggregazione, momenti di festa, quindi organizziamo feste, organizziamo pulizie del parco per renderlo sempre più pulito, pitturiamo i bidoni della raccolta differenziata, pitturiamo il muro che vedete alle mie spalle.